Non si placa a Campobasso la polemica dei proprietari dei terreni della cosiddetta zona Lucarino chiamati a pagare cifre talvolta esorbitanti su ICI e IMU nonostante le loro proprietà si trovino invece in aree periferiche e non edificabili. Vediamo. Avere a Campobasso un terreno di mille metri quadrati in periferia e dovere pagare 950 euro di IMU a giugno e a dicembre altrettanti è cosa assurda perché inedificabili. Ma sembra una cosa normale? Tutto questo perché manca un piano regolatore, uno strumento urbanistico con la previsione di accordi di programma. I proprietari dei terreni disperati hanno chiesto all'amministrazione comunale di prenderseli ma la risposta è stata che non si può. Intanto notti insonni per centinaia di famiglie di Campobasso che sono state raggiunte dagli avvisi di pagamento dell'ICI IMU dei terreni agricoli diventati aree residenziali ed edificabili dopo la perimetrazione Lucarino, dal nome dell'estensore del provvedimento che risale a decine di anni fa. I cittadini di Campobasso proprietari di quelle aree si sono riuniti in un comitato e si sono ritrovati in assemblea il 10 marzo perché di pagare ingiustamente per terreni che invece teoria parte non sono realmente edificabili non se ne parla proprio. I terreni tecnicamente non sono edificabili. Se non si raggiungono i 10.000 ettari previsti per costruire pezzi di terra sono inedificabili ma si paga l'IMU come se lo fossero. Per questo i proprietari dei terreni hanno ribadito all'amministrazione comunale di rivedere perimetrazioni e soldi da pagare. Un assurdo senza risposta.